Laura ci dai tu l'ok per partire? L'audio è attivato, mi sentite? Lo lascio attivo o posso disattivarlo? Puoi tenerlo anche disattivato e poi lo riattiviamo. Perfetto. Laura possiamo andare? Ci siamo? Ok. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro di presentazione della misura luoghi comuni. Un saluto anche a chi ci segue in diretta Facebook sulla pagina della Regione Puglia, delle politiche giovanili della Regione Puglia e di luoghi comuni. Io sono Marco Ranieri, sono di Arti Puglia e faccio parte dello staff che gestisce la misura luoghi comuni. Oggi siamo qui per presentare questa misura promossa dalle politiche giovanili della Regione Puglia, insieme all'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, Arti, e che viene realizzata in collaborazione con Anci Puglia, l'associazione dei comuni pugliesi. Colgo l'occasione proprio per ringraziare sia la Regione Puglia che l'Arti, che Anci Puglia, che hanno permesso questo incontro, e tutti i colleghi che con me hanno lavorato all'organizzazione di questa iniziativa. Oggi abbiamo con noi il nuovo assessore alle politiche giovanili della Regione Puglia, Alessandro Dell'Inoci. Ci raggiungerà brevissimo il presidente di Arti, il professor Vito Albino. Abbiamo con noi la dirigente della sezione politiche giovanili e innovazione sociale, la dottoressa Gianna Elisa Berlingerio. Il sindaco di Cellarmare, Gianluca Vurchio, che è anche componente del direttivo regionale di Anci Puglia, nonché a capo di Anci Giovani. E poi abbiamo anche l'ingegnere Silvia Sivo, che per lo staff di Lughi Comuni, rappresentante dell'Arti, racconterà un po' nei dettagli la misura che andremo a presentare. Ricordo a tutti i relatori che abbiamo a disposizione circa una decina di minuti per gli interventi e chiedo di rispettare i tempi e quando dovrete parlare di attivare il microfono in modo tale che andrete in diretta sostanzialmente anche su Facebook. Al termine degli interventi, per i partecipanti su Zoom ci sarà spazio alle domande, per cui vi chiediamo la cortesia per chi volesse partecipare di prenotare il proprio intervento attraverso la chat di Zoom, scrivendo diciamo a tutti. Quindi daremo spazio alle vostre domande in ordine di presentazione e vi attiveremo il microfono per poter prendere parola. Vi chiediamo anche se è possibile di rinominarvi con nome e cognome, eventualmente l'ente di appartenenza. Per chi ci segue in diretta su Facebook, proveremo anche a rispondere alle domande che ci verranno poste durante la diretta. Qualora non dovessimo riuscirci per questioni di tempo, provvederemo comunque a rispondere online agli eventuali commenti. Prima di passare la parola ai relatori, permettetemi giusto qualche minuto per introdurre l'incontro, ricordandovi che i luoghi comuni è una misura che è partita, che è stata lanciata a fine 2018, è un'iniziativa che la politica giovanile della Regione Puglia, insieme ad Arti, appunto, hanno lanciato per sostanzialmente favorire la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati attraverso progetti di innovazione sociale promossi da organizzazioni giovanili del terzo settore. La misura quindi si rivolge da un lato agli enti pubblici, fra cui i comuni, ma anche università, scuole, case popolari, istituti di case popolari, ASL, ma anche, ovviamente, ai giovani e alle organizzazioni giovanili del terzo settore che intendono, partendo dallo spazio, attivare progetti che lavorano sui territori per favorire processi comunitari di innovazione sociale. Come vi dicevo, è una misura che è partita a fine del 2018, quindi in questi mesi sono accadute diverse cose, è una misura sportello ancora attiva, tuttavia abbiamo già dei piccoli dati che vogliamo condividervi sullo stato dell'arte della misura oggi. Come vedete, ci sono state inoltrate già 102 domande per la messa a disposizione di spazi pubblici, ce ne sono 89 in lavorazione, ben 68 spazi sono già sul catalogo online, questa dimostrazione che, come dire, vi è un importante patrimonio di spazi pubblici a disposizione che possono essere valorizzati attraverso l'energia dei giovani. Delle candidature inoltrate, questa è la distribuzione provinciale, come vedete c'è abbastanza un'equa redistribuzione, in particolare tra la provincia di Bari, di Lecce e di Foggia, le altre province, come dire, hanno comunque dei numeri importanti, questo per noi è un ottimo segnale, la cosa interessante è che è una misura che sta riscuotendo abbastanza interesse per i centri minori, probabilmente per le aree tendenzialmente più periferiche, ma che rappresentano in molti casi gran parte, diciamo, del territorio pugliese. Rispetto, diciamo, ai quantitativi di spazi messi a disposizione, la loro collocazione, come vedete, sono oltre 200.000 metri quadri messi a disposizione, già pari a 29 campi di calcio, una media, diciamo, di circa 1.900 metri quadri per spazio, e la stragrande maggioranza degli spazi messi a disposizione degli enti pubblici sono al coperto. C'è anche una quota di spazi con una superficie mista e in quel caso, come dire, la ripartizione tra la parte coperta e la parte allo scoperto è circa, diciamo, metà e metà. C'è anche una quota di spazi all'aperto che, come, diciamo, poi magari vi ricorderemo meglio successivamente, comunque ha bisogno della presenza dei servizi igienici e, se possibile, per quanto possibile, anche di locali dove poter eventualmente ricoverare delle attrezzature, del materiale, quindi da usare come deposito. Rispetto alle tipologie di spazi condivisi è interessante vedere che spesso si tratta di edifici storici, ma anche nella categoria altro troviamo soprattutto teatri, spazi culturali, ma anche, come vedete, biblioteche, delle aree verde. è interessante che stanno crescendo anche porzioni di edifici scolastici e spazi più piccoli come uffici o come abitazioni. Rispetto ai tematismi che gli enti possono indicare in sedia di candidatura, che per l'87% gli enti indicano poi nelle proprie domande, vedete le attività culturali e le attività turistiche, quelle educative e gli interventi di tutte le valorizzazioni del patrimonio culturale e del paesaggio sono quelle, insieme a quelle sul contrasto alla povertà educativa, sono quelle che sono di maggior interesse per gli enti pubblici. È interessante notare come questi tematismi sono collegati con le attività di interesse generale previste dal nuovo codice del terzo settore, quindi si inizia a costruire sostanzialmente già a monte nella candidatura una relazione con quelle che potranno essere poi gli ambiti di intervento successivi. Concludo, diciamo, dandovi qualche altro dettaglio sugli spazi candidati. Come vedete, il 90% ha accessibilità sia alle aree interne che alle aree esterne dello spazio e moltissimi, quasi la maggior parte, hanno un accesso indipendente e la cosa interessante è che molti comuni, oltre, come dire, alle infrastrutture fisiche, mettono a disposizione anche arredi e forniture. Questi sono solo alcuni dati che sostanzialmente ci aiutano un po' a sottolineare quanto patrimonio pubblico disponibile abbiamo nella nostra regione ed è pronto ad essere messo a valore per l'attivazione dei giovani pugliesi. Luoghi comuni, infatti, può essere visto, diciamo, da diversi punti di vista, sia come una misura, diciamo, di riqualificazione degli spazi pubblici, ma dal nostro punto di vista ha una funzione cruciale di politiche giovanili perché è un'opportunità di fatto per i giovani e per le organizzazioni giovanili per mettersi alla prova animando sostanzialmente spazi pubblici per i giovani affinché, diciamo, i giovani possano diventare protagonisti di un cambiamento del territorio attivando progetti di innovazione sociale che in un certo qual modo aiutano alla creazione di competenze anche utili un domani per l'occupabilità. Proprio su questi temi che vorrei coinvolgere l'assessore regionale alle politiche giovanili Alessandro Dell'Inoci anche perché ricordo che l'assessore è stato presidente per diversi anni di un'organizzazione studentesca che gestisce ancora oggi un importante spazio riqualificato all'interno del comune di Lecce, le officine Cantelmo e la vicina Mediateca Laboratori Urbano Volenti Spiriti. Negli ultimi anni poi l'assessore ha anche svolto un ruolo importante all'interno del comune di Lecce come vice sind, come assessore alla programmazione strategica. Quindi proprio alla luce delle sue esperienze anche personali che vi chiedo perché dal suo punto di vista è importante che un'amministrazione regionale favorisca il riutilizzo di spazi pubblici in favore delle giovani generazioni che valorizzino appunto l'energia e il talento delle giovani generazioni e cosa la regione Puglia intende mettere in campo nei prossimi mesi per favorire il protagonismo dei giovani pugliesi. Salve a tutti Io Mi sentite? Buongiorno Buongiorno a tutti a voi ed è il miglior benvenuto questo perché è un benvenuto che riguarda le tematiche a cui sono stato sempre legato e sono tuttora legato saluto tutti gli amici collegati dal proprio smartphone o da casa saluto tutti i comuni che in questo momento sono collegati per capire come poter partecipare a questa interessante iniziativa e io ho fatto questa esperienza ho fatto personalmente non come decisore politico ma come attore protagonista in un momento in cui c'era un grandissimo fermento giovanile forse noi siamo stati anche temporalmente nel periodo in cui ero presidente della cooperativa e gestiva dell'officina di Cantitismo anche antisignani rispetto poi la straordinaria misura che venne messa in atto da Bollenti Spiriti e che faceva un grande accompagnamento abbiamo fatto questo percorso anche nella fase iniziale insieme ricordo benissimo le tante iniziative ad esempio dei principi attivi che venivano ospitate all'interno delle officine Cantelmo che era diventato un hub delle migliori idee di fermento locale era un po' un contenitore delle tante iniziative che c'erano ma c'era anche un fermento di una generazione che voleva rimboccarsi le maniche e provare a realizzare un sogno che abbiamo tenuto nel cassetto noi cogliemmo l'occasione del momento e realizzammo forse uno spazio aggregativo che divenne un punto di riferimento strategico per il territorio salentino poi questa esperienza si è allargata con il laboratorio urbano della mediateca che era alle spalle dell'officina Cantelmo e quindi si è creato un polo un polo di attrazione per i giovani che potevano realizzare le proprie attività ma potevano formarsi potevano sviluppare un'iniziativa culturale un'iniziativa didattica un'iniziativa per esempio per lo svago e il tempo libero un'iniziativa di un evento concertistico artistico di vario tipo oggi quel momento ha bisogno anche di un rilancio di una nuova strategia poi ho fatto un altro percorso che è quello legato al processo politico e quindi a provare a modificare anche la decisione politica indirizzando da molto verso le politiche giovanili e abbiamo fatto un gran lavoro in questi otto anni nella città di Lecce relativa anche al mondo delle start-up oggi le esigenze sono totalmente cambiate e la capacità anche che poi metteremo in atto è quella di captare le esigenze di una generazione provando a costruire quindi arrivo alla seconda domanda poi ritorno subito alla prima quali sono le nuove esigenze di una generazione che non sono più quelle della mia generazione perché ho 38 anni e voi avete il bando fino a 35 non posso più partecipare e quindi devo provare a interpretare in maniera diversa e lo faremo in maniera partecipata e mia intenzione è lavorare a un piano nuovo strategico un programma triennale così come stavate già lavorando con gli uffici e lo proveremo a costruire in maniera partecipata in modo da captare le esigenze di una generazione con un nuovo programma un nuovo programma perché questa pandemia ci ha aperto tante porte ci ha segnalato alcune opportunità e ci ha segnalato anche alcune strade magari la strategia definita un anno fa non sarebbe stata quella di oggi come la gestione di uno spazio culturale 10 anni fa non è quello di oggi 10 anni fa faccio un esempio quando gestivo l'officina Cantelmo noi realizziamo un internet point perché non c'erano spazi in cui i ragazzi li potevano connettere gratuitamente ma oggi nessuno di noi si connetterebbe noi perché non metteremmo i nostri dati in un computer di un terzo è cambiata proprio l'esigenza la tecnologia oggi a portata di mano ci sono gli smartphone che ti consentono di far tutto avendo un cellulare in tasca che ha un prezzo anche di gran lunga e inferiore dobbiamo interpretare le nuove esigenze il Covid ci ha anche detto che tantissimi ragazzi vogliono tornare qui ma vogliono tornare qui a fare qualcosa e quindi una delle tematiche che voglio sviluppare nel nuovo programma è proprio la tematica di costruire opportunità di controesodo possiamo generare una una terra più attrattiva provando a costruire delle opportunità che consentano a quelli che sono andati via per una scelta formativa o lavorativa di provare a ritornare provando a incastrarsi e a matcharsi anche con chi è rimasto qui perché chi è andato fuori ha fatto delle esperienze e chi è rimasto qui ha una conoscenza maggiore del territorio se li proviamo a mettere insieme se no secondo me proviamo a costruire qualcosa che fa fare un upgrade alla nostra generazione un altro tema che affronterò e che mi vado ad affrontare è quello dei nuovi mestieri dobbiamo provare a inserire la nuova generazione in un di accompagnamento al tessuto economico imprenditoriale che oggi c'è provando a introdurre e ad accelerare nuove esigenze faccio un esempio in molti comuni c'è l'esigenza di cooperative che sviluppino il servizio di delivery quindi di consegne a domicilio questo è un esempio che si può sviluppare che dobbiamo provare a far sì che la nuova generazione sia il propulsore di innovazione ma innovazione intesa non come ciò che è tecnologico ma ciò che introduce un metodo anche e un'opportunità economica nuova differente l'altra è quella di provare a rivetalizzare con modelli nuovi così come è stato facendo con è già avviato con luoghi comuni questi spazi i comuni in questi anni hanno avuto opportunità di finanziamenti per riqualificare tantissimi spazi non non si hanno mai le economie per poterli mandare avanti e forse non si danno neanche le idee giuste in questo momento serve rigenerare una generazione che si prende in mano questi spazi ne fa un qualcosa di interesse pubblico guardando bene al tema della sostenibilità proveremo a fare un po' di azione anche sulla cultura di impresa proveremo ad associare il tema delle politiche giovanili al tema dell'occupabilità e dello sviluppo economico secondo me sono due temi molto connessi e dobbiamo provare a dare un'accelerazione e una velocità che solo la nuova generazione può dare a una regione che può sembrare in alcuni tratti anche stantina ma ci sono tantissimi esempi di innovazione che sono bellissimi esempi e che dobbiamo provare a introdurre su un mercato internazionale ciò non significa che parleremo solo di start up tutt'altro perché la start up è un settore non dobbiamo accelerare soltanto questo dobbiamo introdurre un'innovazione la novità nel tessuto economico dando l'opportunità ai giovani di autorealizzare un sogno nel cassetto e di introdurlo in un mercato accompagnandoli in un'esperienza nuova queste sono un po' le visioni che sento di mettere in campo in linea generale ma lo faremo in maniera totalmente partecipata e sono convinto che dall'ascolto magari ci verranno in mente idee nuove io appartengo a una generazione che guarda oggi in maniera differente le politiche giovanili avendole fatte avendo captato anche le esigenze di una generazione che ormai non è più giovane quindi dobbiamo provare a captare le nuove esigenze dialogando con i ragazzi che vanno dai 18 ai 35 anni provando a costruire un piano che analizzi bene la tendenza in un contesto chiaramente nazionale e internazionale totalmente variegato sarà affascinante e ci proviamo a misurare sperando di portare i risultati alla regione ma soprattutto alle nuove generazioni grazie mille Assessore e benvenuto ovviamente in questa in questo bellissimo percorso che che ha tracciato e in questo in questa misura di luoghi comuni un ruolo importante lo sta svolgendo anche l'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione e per questo diciamo accanto alla regione Puglia l'Agenzia sta lavorando sia ha lavorato sia per l'ideazione della misura che per la gestione quotidiana quindi vorrei chiedere al professor Albino presidente dell'Agenzia Arti come sostanzialmente qual è il valore aggiunto a suo avviso che l'Agenzia può fornire a misure regionali come questa qui di luoghi comuni e come si connette a altre misure di politiche giovanili che l'Agenzia sta portando avanti in questi anni grazie Marco buongiorno a tutti buongiorno e un saluto particolarmente affettuoso al nuovo assessore degli noci e ovviamente l'Agenzia come sua missione ha quella di sostenere le iniziative della regione lo fa essenzialmente attraverso analisi studi ma ovviamente contribuisce nello specifico di luoghi comuni nella definizione delle procedure ha messo a punto delle pratiche più innovative che consentono di accompagnare questa iniziativa soprattutto sulla componente sperimentale perché questo è un tema molto caro all'Agenzia la sperimentazione è una forma di studio la sperimentazione sociale e la sperimentazione economica in senso più lato quella sociale è sicuramente uno degli aspetti più complessi ma anche più propulsori di cambiamento che si manifesta sia nel definire delle politiche sia nel definire degli strumenti luoghi comuni è uno di questi strumenti e noi lo guardiamo sempre con estremo interesse anche perché è figlio di una tradizione di attività della regione Puglia che l'assessore ha richiamato essendone stato uno degli attori in prima linea quindi da questo punto di vista ovviamente i risultati anche di queste sperimentazioni saranno poi rielaborati al fine di definire nuove ipotesi appunto come peraltro richiamava l'assessore per anche nuove iniziative sicuramente poi luoghi comuni svolge una funzione importante perché ha un target che è quello dei giovani e quindi è un target estremamente caro all'agenzia noi lavoriamo ovviamente sul fronte delle competenze che questi giovani possono acquisire per la loro crescita professionale e soprattutto le competenze sul fronte della sostenibilità e dell'innovazione sociale credo che questo sia un discorso centrale per le politiche regionali è sicuramente un tema su cui intuisco nel futuro la regione investirà molto e credo che sia peraltro uno di quegli obiettivi di medio lungo termine che tendenzialmente la politica si dice guarda con minor preoccupazione in realtà proprio l'operare con iniziative rivolte ai giovani è proprio invece la dimostrazione di una politica che tende a guardare sul medio lungo termine quindi quella politica alta quella politica che guarda alla formazione del bene comune nel nel futuro e non nei giorni prossimi quindi da questo punto di vista ovviamente l'agenzia è fortemente coinvolta naturalmente non dobbiamo poi e vado a chiudere non dobbiamo poi dimenticare che siamo in un momento particolarmente critico di discontinuità legato al fenomeno pandemico e quindi ancora di più l'agenzia si sente coinvolta in quanto si tratta di curare quelle piantine che si stanno seminando e a cui bisogna garantire un contesto sociale ed economico favorevole e che bisogna proteggere perché è in quelle piantine il nostro futuro futuro solo questo volevo osservare in relazione alle domande che abbiamo posto Marco Ranieri e quindi esprimere tutta la volontà dell'agenzia nel rafforzare le politiche che la regione declinerà a favore dei giovani grazie 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 mille presidente Albino colgo anche l'occasione per salutare tutti gli assessori sindaci i dirigenti comunali che sono collegati con noi tramite zoom e tutte le persone che ci stanno seguendo in diretta facebook passerei la parola alla dottoressa Giannelisa Berlingerio dirigente della sezione politiche giovanili e innovazione sociale anche per lei diciamo una domanda che apre un altro un altro capitolo legato a luoghi comuni luoghi comuni è una misura che forse diciamo per la prima volta in via fortemente sperimentale adotta la procedura della coprogettazione come procedimento amministrativo per diciamo costruire partenariati tra pubblico e privato sociale in una recentissima sentenza la corte costituzionale ha descritto la coprogettazione come diciamo la procedura che rappresenta la più significativa una delle più significative attuazioni del principio di sussiderietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della costituzione volevo chiedere appunto alla dottoressa Berlingerio diciamo perché scegliere una procedura di questo tipo per una misura di politiche giovanili legate in particolare agli spazi grazie Marco e per rispondere alla tua domanda partirei diciamo con un'inversione logica partirei da ringraziamenti nel senso non solo ringraziamo tutti gli astanti cosa che tu hai appena fatto io allargo i ringraziamenti anche a tutto lo staff di arti che seguono i comuni in maniera molto proattiva così come mi riferiscono gli amministratori che sono stati coinvolti nel corso del tempo e ai colleghi della sezione politiche giovanili perché faccio questo perché ringrazio i partecipanti perché queste dinamiche nella pubblica amministrazione ma direi in tutte le organizzazioni umane passano oggettivamente attraverso le persone per cui si possono scegliere le procedure ma le procedure sono incarnate poi da chi con entusiasmo le compassione le le mette in atto la procedura della coprogettazione è in particolare una procedura che punta sulle persone mi permetto di dire perché mette in correlazione i bisogni le esigenze le le esperienze e le competenze di tutti i partecipanti in questo caso peraltro è una coprogettazione a tre perché insieme al soggetto che vince la procedura di selezione pubblica con il miglior progetto per l'uso dello spazio candidato c'è il proprietario dello spazio candidato nella maggior parte dei casi fino ad ora i comuni però approfittiamo per ricordare che non sono solo i comuni beneficiari possibili di luoghi comuni lo sono tutte le amministrazioni pubbliche quindi anche scuole università come hai detto tu prima e poi c'è la regione con arti quindi come dire un insieme di storie che vengono intrecciate per arrivare alla migliore soluzione finale peraltro un e questa mi permetto di dire è una innovazione è la nostra parte di innovazione all'interno del processo complessivo dell'innovazione sociale che è innovazione di contenuto ma è innovazione anche di metodo e che peraltro spinge una cultura di cittadinanza e di intesa come partecipazione alla vita civile e alla vita sociale e la sentenza della Corte Costituzionale che hai citato tu ci soffermiamo per veramente due secondi su questo argomento ha spazzato via i dubbi di costituzionalità che c'erano stati su questo articolo 55 del codice del terzo settore non solo considerando perfettamente in linea con la Costituzione questo articolo ma anzi una delle sue applicazioni più efficaci ha anche consentito di sottolineare la differenza fra il campo dell'innovazione sociale e quello della competizione di mercato per cui questo significa che nel campo dell'innovazione sociale i valori che vigono sono diversi sebbene si attuino attraverso gli stessi strumenti perché la legge 241 cioè la legge sul procedimento amministrativo che cita l'articolo 55 è la legge che prevede nei propri che è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale sufficiente a disciplinare il procedimento di coprogettazione annovera fra i suoi principi la trasparenza e l'articolo 12 la precostituzione dei criteri per attribuire vantaggi pubblici quindi il concetto è nel momento in cui noi stabiliamo a priori per esempio con il nostro bando per la partecipazione a luoghi comuni poi per i singoli bandi per i singoli spazi quali sono i criteri per partecipare nel momento in cui questi sono trasparenti e la partecipazione è aperta alla più ampia collettività questo è sufficiente ad assicurarci che siano rispettati i principi costituzionali e non è necessario applicare un procedimento più complesso o più rigido come quello per esempio del codice degli appalti questo è il passato della nostra misura il presente è quello descritto molto in maniera molto plastica dall'assessore dell'Inoci cioè una rilettura di questi anche di queste iniziative degli interventi che noi nel corso del tempo abbiamo sostenuto non solo con luoghi comuni ma con il padre e il nonno di luoghi comuni quindi con laboratori urbani laboratori urbani in rete mettici le mani una rilettura alla luce di quello che sta succedendo nel mondo in relazione al covid e questa rilettura è attuata attraverso spazi di prossimità questo bando che abbiamo diciamo emanato in pieno periodo covid consente a tutti quelli che abbiano partecipato ai bandi che ho raccontato di per l'appunto rileggere i propri progetti alla luce del covid qual è il futuro verso il quale andiamo e attraverso diciamo l'obiettivo al quale puntiamo se lo vogliamo definire sinteticamente è quello del controesodo a cui faceva riferimento l'assessore e il controesodo non si ottiene soltanto creando lavoro sicuramente quella è la base d'altro canto ogni tanto qualcuno ricorda che nell'articolo 1 della nostra costituzione la repubblica è fondata sul lavoro tutti gli altri vengono dopo sono importantissimi ma vengono dopo il lavoro tuttavia quello che raccogliamo quando parliamo con persone che sono pugliesi che vivono fuori e vorrebbero tornare o sono persone nate altrove che vivono e lavorano in Puglia o con persone che stanno scegliendo se restare o partire e che tutto intorno a loro hanno bisogno di un ecosistema sociale civile che gli consenta di vivere una qualità della vita alta la qualità della vita alta passa torno al tema da cui sono partita passa attraverso le persone e quindi nella nostra programmazione futura abbiamo una serie di strumenti che si rivolgeranno ancora una volta alle persone per consentire una crescita una personale una messa in rete penso per esempio al servizio civile una messa in rete delle esperienze la possibilità di svolgere volontariato all'estero e di tornare ma ancora la possibilità di valorizzare i tesori che ci sono anche in pezzi qualche volta dimenticati delle nostre città e dei nostri luoghi per l'appunto che vogliamo che diventino luoghi comuni grazie mille dottoressa Berlingeri questo passaggio diciamo dagli spazi ai luoghi con le persone per noi è un passaggio cruciale e passerei la parola adesso a Gianluca Vurchio sindaco di Cella Mare nonché componente del direttivo di Anci Puglia vorrei chiedere il ruolo che Anci Puglia sta svolgendo all'interno di questa misura e poi se è possibile di condividere la sua esperienza da sindaco di Cella Mare che ha candidato uno spazio a Lughi Comune ha ospitato un momento di incontro in uno degli ultimi giorni prima diciamo che la Puglia diventasse zona arancione se potreste condividere la sua esperienza con i propri colleghi e altri sindaci della regione buongiorno buongiorno a tutti grazie Marco un saluto al neoassessore regionale un saluto all'arti Puglia un saluto a tutti i sindaci e gli amministratori locali che stanno partecipando a questa conferenza per questa iniziativa che l'Anci Puglia sin dal 2018 ha sostenente ha fortemente sostenuto per diciamo promuovere questa iniziativa che è partita appunto dalla regione con l'Arti e con l'Anci per prevedendo un fondo di ben sette milioni sette milioni di euro per finanziare un massimo di centosettantacinque progetti giovanili l'Anci ha presentato la progettazione in sede regionale ma ha anche girato in lungo e largo la regione Puglia per promuovere questa iniziativa all'interno dei comuni abbiamo anche come Anci messo a disposizione la giusta assistenza in favore dei comuni stabilizzando all'interno dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani tre figure composte da due architetti e un sociologo a supporto dei comuni per quanto concerne le progettazioni e continuiamo a farlo perché crediamo fermamente in questi progetti progetti che mirano a rivitalizzare luoghi spesso inutilizzati da parte delle amministrazioni pubbliche da parte dei comuni nella fattispecie per poterli rivitalizzare e concederli alle associazioni locali porto l'esempio di quello che il comune di Cellammare ha avviato recentemente abbiamo recentemente anche svolto una conferenza con le associazioni abbiamo candidato un locale che è figlio di bollenti spiriti e quindi ci teniamo moltissimo a volerlo rivitalizzare e rivalorizzare questa conferenza questa possibilità ha anche tra virgolette scatenato in senso positivo il mondo dell'associazionismo locale con diverse partecipazioni quindi il mondo del terzo settore penso alle associazioni di promozione sociale penso alle organizzazioni di volontariato penso alle cooperative sociali che si mettono insieme e che partecipano per rivitalizzare rivalorizzare ravvivare un luogo che spesso è stato diciamo abbandonato o non tenuto debitamente in considerazione dalle amministrazioni locali noi vogliamo fare questo e puntiamo a continuare diciamo quindi puntiamo nel continuare la giusta assistenza in collaborazione con Archi e con la regione Puglia i nostri consulenti di Anci sono a disposizione dei comuni qualora ve ne fosse la necessità e speriamo che questa misura qualora le risorse scarseggino possano essere possa essere nuovamente finanziata dalla regione per continuare questo bel percorso perché prima sentivo parlare di raccolta di semina ed è quello che in questo momento la regione Puglia e l'Arti Puglia iniziano a fare consapevoli della grande difficoltà perché la sfida è appena iniziata è facile iniziare la gestione ma poi nel tempo si dovranno le associazioni diciamo i soggetti gestori dovranno necessariamente metterci del proprio per continuare questa bella avventura che è appena iniziata grazie grazie mille sindaco Burchio ne approfitto anch'io per ringraziare i colleghi di Anci Puglia che ci hanno accompagnato e ci continuano ad accompagnare in questi mesi di lavoro ricordo che se foste interessati a porre delle domande potete prenotarvi attraverso la chat di Zoom nel frattempo lascerei la parola alla collega ingegner Silvia Sivo che fa parte dello staff di Lughi Comuni per Arti Puglia e che presenta rapidamente la misura e le modalità di partecipazione da parte degli enti pubblici buongiorno a tutti grazie per essere qui a condividere questo momento di presentazione ma anche di aggiornamento dei risultati che ci sono stati in quest'ultimo anno allora procedo con la condivisione dello schermo e allora quello che andrò a dire adesso riguarda prima di tutto l'approfondimento di alcuni aspetti che sono stati già menzionati che riguardano il appunto il la misura il funzionamento e quindi le varie fasi dopodiché alla fine della spiegazione vi daremo anche un riscontro di quelli che sono stati i progetti attivati finora prima di tutto la prima fase come già menzionato prima l'avviso per gli enti pubblici quindi per candidare gli spazi è a sportello e quindi è a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche che hanno titolarità di uno spazio titolarità che consiste nella proprietà oppure nella piena disponibilità per un periodo che è almeno pari alla durata dei progetti gli enti che vogliono partecipare quindi candidare i progetti devono nominare un referente un RUP e compilano la scheda di candidatura che è presente sulla piattaforma di luoghi comuni indicando tutti i dati dello spazio e inviando la documentazione richiesta la documentazione richiesta che riguarda una serie di documenti che andremo adesso a vedere altre caratteristiche dello spazio appunto riguardano il diciamo l'utilizzazione degli spazi che devono essere privi di un soggetto gestore e deve essere o deve esserci una gestione almeno in scadenza negli ultimi tre mesi ma questo lo andremo a vedere sostanzialmente gli enti mettono a disposizione lo spazio attraverso un atto deliberativo che quindi delega ad Arti tutta la realizzazione dell'iter di selezione delle organizzazioni giovanili impegnandosi però come amministrazione nella conduzione della fase di coprogettazione sottoscrivendo poi con Arti degli accordi di appunto collaborazione e dei contratti di comodato d'uso gratuito dello spazio rivolto alle organizzazioni giovanili appunto Arti verifica le candidature degli spazi e una volta che gli spazi hanno superato la soglia di valutazione e quindi sono ammissibili pubblica le schede degli spazi sulla piattaforma che è appunto un catalogo aperto quello che prima aveva mostrato il collega Marco Ranieri sempre visionabile sulla piattaforma ciascun ente può candidare contemporaneamente fino a tre proposte quindi tre spazi candidati può candidarne altri qualora uno degli spazi abbia ricevuto magari una valutazione negativa quindi non si era entrato nel catalogo degli spazi oppure se lo spazio è stato poi ammesso al quindi l'avviso pubblico rivolto alle organizzazioni giovanili e si attivi la coprogettazione in quel caso venendo a mancare uno spazio diciamo nel catalogo degli spazi disponibili il comune ne può candidare un altro entriamo nel dettaglio appunto oltre ad essere di proprietà o comunque nella piena disponibilità dell'ente titolare gli spazi devono anche essere immediatamente fruibili spazi o anche porzioni degli spazi che cosa si intende per immediatamente fruibili scusa si intende che devono essere prima di tutto agibili quindi devono essere in un buono stato di conservazione che permetta di svolgere attività pubbliche devono inoltre avere la presenza dei servizi igienici e avere degli accessi indipendenti per esempio nel caso di pozioni di spazi ovviamente per esempio una scuola deve essere la possibilità di accedere allo spazio indipendentemente devono essere gli spazi sono poi tra l'altro candidati dal comune attraverso diciamo una propria ricognizione o possono anche avvenire come è successo in alcuni casi che abbiamo diciamo a cui abbiamo partecipato casi di ricognizione pubblica quindi anche di stimolo dato alla cittadinanza di diciamo e con l'invito a indicare quelli che possono essere gli spazi potenzialmente diciamo candidabili alla misura inoltre i comuni possono anche accogliere delle sognalazioni di spazi che vengono diciamo inviate dalla cittadinanza sulla piattaforma di luoghi comuni e che atti gira appunto alle amministrazioni nello specifico appunto di che cosa è composta la scheda degli spazi è composta prima di tutto di un'anagrafica dello spazio quindi le informazioni riguardo la superficie la destinazione d'uso la descrizione quindi delle caratteristiche di fruibilità dello spazio accessibilità e eventuali restrizioni all'accesso un'eventuale vincolistica poi il comune ha la possibilità di indicare i tematismi come menzionati da Marco che per noi sono ambiti di intervento prioritari in qualche modo sono i desiderata del comune quello che il comune vorrebbe che fosse fatto in via principale quindi uno spazio diciamo dedicato all'educazione al turismo oppure alle attività culturali chiaramente alcuni spazi sono molto più diciamo già definiti nella loro destinazione d'uso ma magari ce ne sono altri su cui il comune può suggerire eventuali diciamo tematismi c'è bisogno di una descrizione del contesto urbano e del contesto anche sociale in cui l'edificio si colloca la durata della disponibilità dello spazio che deve essere minimo di due anni e poi gli strumenti e diciamo sia di monitoraggio ma anche di compartecipazione che l'amministrazione vuole mettere in campo nella fase di coprogettazione la descrizione del contesto è molto importante diciamo questo è un dettaglio che posso dare alla luce poi delle coprogettazioni che abbiamo svolto perché mette le organizzazioni giovanili nella condizione di interpretare diciamo il ruolo che lo spazio può avere e di essere in linea con quella che è la visione dell'amministrazione infatti in questo campo l'amministrazione può anche indicare eventuali politiche pubbliche magari di riqualificazione di rigenerazione ai piani di zona tutto quello che riguarda diciamo l'evoluzione urbana ma anche l'evoluzione sociale quindi magari l'attivazione di politiche sociali particolari oppure legate alle fasce scolastiche alle fasce deboli tutta una serie di indicazioni che ovviamente poi diventano materiale per l'avviso rivolto alle organizzazioni giovanili oltretutto vengono indicate anche una serie di caratteristiche attraverso gli elaborati grafici e fotografici quindi una raccolta di foto le piante quotate un eventuale elenco delle forniture e delle attrezzature che erano state prima menzionate la seconda fase l'avviso alle organizzazioni giovanili quindi Arti pubblica appunto le schede degli spazi sulla piattaforma dopo 30 giorni dalla pubblicazione degli spazi parte l'avviso viene diciamo pubblicato l'avviso alle organizzazioni giovanili quindi in questo caso vengono appunto raccolte da Arti che le seleziona l'avviso delle organizzazioni giovanili contiene gli obiettivi ovviamente dell'iniziativa tutte le informazioni legate ai requisiti che devono avere le organizzazioni giovanili i requisiti di valutazione che come diceva la dottoressa Berlingerio prima sono oggettivi sono omogenei sono diciamo uguali per tutte per tutti gli avvisi pubblici e le fasi poi in cui si svolgerà la coprogettazione con appunto un contributo massimo concedibile di 40.000 euro e con ovviamente diciamo le regole riguardo le spese ammissibili che tipo di progetti appunto vengono presentati per rispondere a questo avviso pubblico sono progetti di innovazione sociale della durata di 24 mesi di cui gli ultimi sei mesi vengono svolti senza il finanziamento pubblico quindi quel monte di massimo 40.000 euro viene consumato dalle organizzazioni giovanili entro il diciottesimo mese dopodiché diciamo entrano appieno nella fase di start up e devono essere progetti anche che rispondono ai fabbisogni del territorio quindi a maggior ragione è importante che l'ente esprima tutto quello che diciamo è nell'idea del possibile futuro dello spazio devono appunto anche essere calibrati sulle caratteristiche degli spazi quindi tutta la vincolistica tutte le eventuali indicazioni anche sulla manutenzione servono appunto per rispondere appieno a quelle che sono poi delle esigenze specifiche di cura dello spazio devono ovviamente i progetti riguardano molto i servizi di animazione del territorio che non solo coinvolgono le comunità nelle attività ma generano anche delle nuove ovviamente relazioni e ovviamente oltre all'importo di 40.000 euro il comune diciamo sulla scheda quindi che viene pubblicata e messa a disposizione delle organizzazioni giovanili per l'avviso pubblico ci sarà anche la quota eventuale di compartecipazione materiale ma anche i servizi e quindi le facilitazioni come forma di compartecipazione immateriale che il comune metterà a disposizione delle organizzazioni giovanili durante lo svolgimento dei progetti quindi ARTI espleta tutte le attività connesse alla selezione dell'organizzazione giovanile acquisendo le proposte e poi valutandole attraverso una commissione di esperti esterni per avere appunto un giudizio quindi una graduatoria dei progetti presentati il progetto selezionato quindi l'organizzazione giovanile selezionata in quanto ha conseguito il maggior punteggio nella fase di valutazione entra a pieno titolo nella fase di coprogettazione in questo a questo punto ARTI convoca l'ente pubblico quindi il comune e l'organizzazione giovanile alla fase di coprogettazione che serve a trasformare la proposta progettuale che è uno stadio ancora preliminare per avere come output di questa coprogettazione un vero e proprio progetto di dettaglio la coprogettazione è stata diciamo ben introdotta prima è uno strumento molto innovativo e ovviamente va in un'ottica che è molto diversa dalle procedure che invece diciamo riguardano il codice degli appalti perché consente alle amministrazioni pubbliche di appunto coprogettare insieme ai soggetti diciamo del privato sociale quelli che sono i servizi e quelle che sono le attività che andranno svolte nello spazio quindi il principio fondamentale è proprio quello della sussidiarità che è definito dall'articolo centodiciotto della Costituzione attraverso diciamo una mutua un mutuo scambio di competenze e attraverso una solidarietà in qualche senso motivata appunto dall'obiettivo generale che è quello di rigenerare lo spazio e di metterlo a servizio della comunità la coprogettazione appunto serve a condividere prima di tutto il progetto che viene presentato dall'organizzazione giovanile ad affinarlo a magari anche accogliere quelli che possono essere gli spunti le osservazioni e anche ulteriori forme di compartecipazione da parte dell'amministrazione che possono essere anche mettere a conoscenza l'organizzazione giovanile dell'esistenza appunto di iniziative già presenti sul territorio comunale mettere l'organizzazione giovanile in contatto con i funzionari che si occupano magari di servizi sociali servizi scolastici lavori pubblici tutto quello che ovviamente serve per vedere a 360 gradi poi l'operatività del progetto e quindi per integrare le rispettive visioni e arrivare a un obiettivo unico la fase quarta riguarda appunto la stipula dell'accordo di collaborazione tra regione Puglia ente pubblico e organizzazione giovanile e quella del contratto di comodato d'uso di minimo due anni tra ente pubblico e organizzazione giovanile in questo senso appunto l'organizzazione del terzo settore diventa partner collaboratore dell'ente pubblico e viceversa e quindi da questo momento in poi condividono responsabilità e risorse nell'attuazione poi del progetto questo significa che cosa che le organizzazioni giovanili ovviamente realizzano il progetto come è stato coprogettato Arti provvede all'assegnazione delle risorse secondo ovviamente le regole descritte nella coprogettazione quindi con l'erogazione delle tranche con il controllo e la rendicontazione ma anche con il monitoraggio e l'ente pubblico ovviamente svolge una funzione di controllo sulla corretta esecuzione e interagisce con Arti nell'aspetto del monitoraggio le organizzazioni giovanili appunto continuano a rendicontare le risorse compartecipano anche mettendo loro a disposizione delle forme di compartecipazione e che possono anche mutare nel tempo nel senso che la coprogettazione è un ambiente che alla fine dura due anni e quindi il progetto si evolve insieme al suo andare avanti e se possono cambiare delle cose possono intervenire altre esigenze altre necessità ovviamente tutte queste vengono individuate vengono gestite all'interno di questa coprogettazione a tre di cui Arti è facilitatore adesso vi vogliamo far vedere un po' qual è lo stato dell'arte quindi ricordandovi ovviamente che l'avviso per gli enti pubblici è a sportello e che sono al momento sono stati assegnati due milioni e sei circa di euro quindi c'è anche diciamo fino al duemila e venticinque che è il momento della rendicontazione finale sono disponibili ancora molte risorse vi vogliamo far vedere quello che abbiamo diciamo visto finora riguardo appunto le attività dei progetti i dati interessanti sono quelli che riguardano per esempio le candidature ricevute per cui c'è una media per avviso di 1,7 il che significa che circa due organizzazioni partecipano all'avviso pubblico rivolto alle organizzazioni giovanili questo non significa che c'è una competizione conflittuale questo a volte significa anche come abbiamo riscontrato in alcune coprogettazioni che si crea una sorta di collaborazione competitiva tra i soggetti del territorio che è anche molto utile a elevare un po' il livello della progettazione e dell'erogazione dei servizi da parte del privato sociale sul territorio infatti come si può notare sotto in quella barra arancione la presenza dei partner è di quasi il 70% questo che significa che le organizzazioni giovanili non partecipano da sole al avviso pubblico ma partecipano creando delle relazioni quindi significa che sono solo le capofila poi di una rete di un movimento di persone di organizzazioni che ovviamente si mette in movimento i componenti del gruppo di lavoro in media per candidatura come si vede nel dato a destra sono 6,2 quindi si tratta di veri e propri team di progettazione che appunto rispondono all'avviso pubblico con l'idea di rigenerare gli spazi quindi dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni sono veramente tante energie che si vogliono mettere al servizio del territorio e che è utile considerare appunto per quanto riguarda la distribuzione oltre al dato provinciale che vede un po' la distribuzione sulle varie province è interessante vedere nella barra rosa in basso che la sede legale operativa si trova nello stesso comune in cui si trova lo spazio quindi sono energie che si liberano al servizio del comune diciamo del territorio e quindi in qualche modo diciamo viene ulteriormente stimolata la partecipazione dei giovani alla vita sociale la partecipazione diciamo è quasi diciamo sul totale di 59 associazioni di promozione sociale poi ci sono altre associazioni imprese cooperative organizzazioni di volontariato quindi il dato sociale è molto importante ultimo dato riguarda il piano finanziario appunto vengono quasi sempre diciamo richiesti 40.000 euro che sono il massimo quindi concedibile dalla misura mentre la distribuzione media del finanziamento è molto interessante e in qualche modo ci dà ragione rispetto a come è stata formulata la misura infatti si può vedere che rispetto ai servizi di manutenzione ordinaria viene dedicato il 10% circa del finanziamento concedibile mentre la maggiore voce riguarda le risorse umane questo è molto importante perché fa vedere come appunto questa energia che mettono in campo i giovani viene anche riconosciuta economicamente è chiaro non si tratta di lavoro in senso stretto però si tratta comunque di un riconoscimento economico delle competenze spese e questo è importante perché ovviamente tanto più lo spazio è pronto all'uso è immediatamente fruibile tanto più quelle energie e quelle risorse ma anche quelle diciamo quelle economie non vengono immobilizzate nello spazio ma servono appunto per realizzare le attività e per dare dei contributi economici ai giovani che le realizzano vogliamo chiudere con diciamo una fotografia di quello che sta succedendo adesso perché dei 16 progetti che sono avviati ad ora solo alcuni pochissimi sono partiti prima della tempesta del covid molti sono partiti e ci sono anche state le coprogettazioni durante il primo lockdown ma anche fino ad ora perché diciamo lo staff di luoghi comuni non si è mai fermato durante questi mesi che cosa è successo diciamo da un certo punto di vista è stato uno sconvolgimento ma da un altro punto di vista invece è stata una conferma appunto dell'intuizione del rispetto all'uso dello strumento della coprogettazione e a come è stato concepito il bando perché i progetti non si sono modificati molto non si sono trasformati i progetti si sono adattati quindi hanno mantenuto i loro obiettivi generali le amministrazioni e le organizzazioni giovanili hanno continuato nella loro scommessa li hanno resi più flessibili li hanno adattati e se alcune attività magari si sono fermate le attività che riguardavano ovviamente i grandi incontri pubblici o comunque l'aggregazione di persone in realtà questo è stato uno stimolo per la creatività per immaginarsi anche nuove forme innovative su come erogare quei servizi o svolgere quelle attività qui ci sono sei fotografie che vi descrivo che riguardano per esempio la creazione il potenziamento il rafforzamento delle attività che erano già state pensate dalle organizzazioni giovanili e che adesso si stanno dimostrando dei veri e propri pilastri dei servizi nei comuni in un caso per esempio come quello di Martina Franca lo spazio dell'ospedaletto pensato come spazio di co-working ma non solo adesso è uno dei punti di riferimento non solo della città ma anche dei comuni limitrofi per chi in questo momento deve comunque continuare a lavorare lo spazio invece l'auditorium di Caprarica di Lecce sta pensando a come affiancare gli istituti scolastici nel favorire la DAD e sta dedicando le sue attività soprattutto negli spazi esterni per le attività motorie dei ragazzi in sicurezza oppure nella Casa della Salute che è il progetto tecnico di Palagianello la mancanza di cioè l'impossibilità di movimento degli studenti però sta potenziando ancora di più lo spazio della sala lettura con la creazione anche di una biblioteca condivisa mentre nel comune nel teatro comunale di Leverano per esempio ovviamente gli spettacoli si sono fermati ma ci si sta dedicando molto di più alla formazione quindi corsi di drammaturgia di teatro che stanno mantenendo quei legami anche con la comunità si sono creati anche dei club di lettura per permettere alle persone di sentirsi vicine anche a distanza e come nel caso di Castellaneta si stanno aprendo degli sportelli di servizi integrati sanitari e di cura delle persone proprio in collaborazione con l'amministrazione quindi questi sono dei semplicissimi casi primi che vi vogliamo condividere per dimostrare che questi progetti diventano anche dei sodali fondamentali per la pubblica amministrazione anche per garantire la coesione sociale e l'inclusività e per garantire a tutti l'accesso magari dei servizi che a volte sono anche di base quindi sostanzialmente quello che luoghi comuni sta facendo non è solo riattivare gli spazi ma dare vita attraverso gli spazi a delle forme di relazioni e di attivazione della cittadinanza che creano anche cultura civica e diciamo saldano l'appartenenza al territorio e la resilienza delle comunità quindi questo è diciamo il messaggio che vi vogliamo trasmettere ovviamente sulla piattaforma di luoghi comuni potrete trovare anche le attività degli spazi riattivati che quindi potrete seguire mentre qui ci sono i nostri contatti le pagine social e appunto i numeri a cui potrete trovarci per ogni tipo di assistenza o di delucidazione grazie mille grazie mille Silvia ovviamente colgo l'occasione magari per presentare ancora una volta la la piattaforma di luoghi comuni che restituisce spesso molte delle informazioni che abbiamo condiviso oggi in home page sono già visibili gli spazi che sono stati messi a disposizione con una leggenda di colore a seconda diciamo dello stato dell'arte entrando poi nella sezione spazi potrete vedere come dire appunto il senso della leggenda con i colori arancioni che hanno i bandi in preparazione sono i cinque spazi che abbiamo pubblicato recentemente mentre in viola trovate gli spazi con i bandi scaduti che ritrovate qui sotto in elenco dove c'è possibile vederli tutti è interessante diciamo che per ciascuno spazio che per esempio come dire dove c'è una procedura dove si è conclusa da poco la procedura qui nella segui la valutazione è immediatamente possibile vedere chi si è candidato e seguire poi le procedure come avanza la procedura di valutazione da parte di arti chiedo scusa quindi le commissioni di valutazione che vengono individuate fin ultimo la pubblicazione dei verbali di valutazione da parte delle commissioni di arti mentre nella sezione riattivati potete già vedere come si stanno muovendo alcuni progetti che sono partiti prendo ad esempio il caso del centro di aggregazione giovanile a Spongano che è uno di quelli che è partito prima trovate diciamo una descrizione di che cosa è possibile realizzare all'interno dello spazio è un mosaico che collega sostanzialmente alla pagina Instagram del progetto su cui ci sono tutti gli aggiornamenti sulle varie attività che vengono realizzate con i contatti dei soggetti gestori è anche molto bello qui sotto vedere com'era il centro di aggregazione prima di essere candidato e come è stato trasformato grazie all'energia dei ragazzi ringrazio colgo anche l'occasione per ringraziare gli sviluppatori di arti perché questo sito è fatto totalmente in casa e quindi non è banale e ringrazio quindi i colleghi che si adoperano quotidianamente per una stabilità anche della piattaforma web che per noi ha un ruolo importante non so se ci sono domande c'è una richiesta di intervento di Valeria Pesole Pesare scusatemi quindi se vuoi puoi intervenire grazie intanto ringrazio tutti per diciamo intanto per questo momento perché sicuramente essere vicini in questo momento fa bene fa bene a tutta la nostra comunità pubblica io intervengo giusto in questo panel come diciamo mi occupo nella parte della formazione della linea di innovazione sociale nel gruppo del forum del terzo settore ovviamente sono stati dati tantissimi punti su cui anche noi come forum stiamo ragionando partendo dalla riforma del terzo settore alla grande opportunità che viene dato dall'articolo cinquantacinque la coprogettazione ma soprattutto stiamo riflettendo di diciamo su quelli che sono i grandi cambiamenti sociali dati dalla crisi covid soprattutto al sud e soprattutto nei confronti delle politiche giovanili quello che riguardano i giovani e gli esclusi ovviamente una misura come questa diventa fondamentale proprio per creare un punto di incontro fra chi è rimasto qui e che vive in qualche modo delle situazioni di criticità e le nuove competenze che in questo momento sono rientrate in Italia e soprattutto diciamo quest'unione molto importante per l'effetto generatore che alcune azioni e alcune attività potrebbero avere sulla comunità ovviamente questo pone tutti noi parlo soprattutto in termini di leadership dirigenza e gestione di delle organizzazioni a diciamo un nuovo modo e un nuovo approccio diciamo della vita della nostra comunità per questo volevamo qui diciamo proporvi di fare un incontro e anche proporci di fare un incontro con voi soprattutto per quanto riguarda diciamo tutta la parte di coprogettazione e il coinvolgimento di giovani e soprattutto aprire delle parentesi sulla cultura visto anche le tantissime difficoltà che tutto il mondo della cultura ha vissuto in questo periodo questo grazie Valeria credo di poter rispondere al nome di tutto lo staff ovviamente c'è una piena disponibilità da parte nostra per un confronto non vi nascondo che come dire spesso si sta facendo anche diciamo anche un po' indirettamente formazione a molte associazioni organizzazioni che diciamo stanno modificando anche in questo momento storico la loro pelle a seguito del nuovo codice del terzo settore della riforma in questo momento diciamo sta per partire il registro unico nazionale quindi siamo dentro un percorso di cambiamento molto importante tanto che spesso diciamo le organizzazioni giovanili che i luoghi comuni sta anticipando anche un po' di riflessioni che debbano avvenire all'interno degli enti delle organizzazioni giovanili se modificare gli statuti in che direzione andare se restare o meno un'associazione o diventare un ente del terzo settore penso anche alle associazioni sportive direttantistiche sono tutti temi come dire molto vivi in questo momento per chi conosce il terzo settore quindi siamo ben lieti di poter condividere anche le esperienze che stiamo portando avanti come coprogettazione non vi nascondiamo che non c'è tantissimo diciamo in Italia su questo tema un po' siamo andati anche a costruircelo il percorso di coprogettazione in maniera sartoriale rispetto a quelle che sono le esigenze specifiche del nostro processo e delle persone che stiamo coinvolgendo credo che sia importante allo stesso tempo continuare a promuovere questo procedimento amministrativo in capo alle amministrazioni locali affinché si possa superare la logica tradizionale dell'appalto che secondo noi in alcuni progetti di innovazione sociale potrebbe diventare paradossalmente stringente rispetto a quelli che sono gli obiettivi diciamo di un dialogo profico tra pubblico e privato sociale quindi assolutamente a disposizione non so se ci sono qualche se c'è qualche altro intervento sulla chat non ci sono prenotazioni ah Vincenzo Signarello un attimo solo che ti sblocco il microfono sì buongiorno mi sentite tutti sì innanzitutto grazie per questo incontro e saluto tutti quanti voi oggi sono in veste di consulente per il comune di Carapelle in provincia di Foggia e al tempo stesso sono anche presidente di un'organizzazione che ha vinto luoghi comuni nel comune di Stornara quello che è stata diciamo la mia opera di evangelizzazione è portare luoghi comuni all'interno del territorio dei Cinque Relisivi e mi ha fatto moltissimo piacere vedere i dati della provincia di Foggia e soprattutto questa mattina la pubblicazione di altri due spazi io vedo connesso anche il sindaco di Stornarella Massimo Colia che ringrazio perché dopo anche il comune di Stornara ha da subito capito l'importanza di questo avviso ci siamo visti e ha voluto saperne di più infatti il comune di Stornarella oggi ha avuto già la disponibilità di un bene che ho appena visto in gradatoria insieme al comune di Ordone come comune di Carapelle qualche settimana qualche settimana fa abbiamo candidato due spazi su tre e ovviamente adesso seguirà tutta l'istruttoria io credo molto in questo avviso anche nella diciamo nell'aggiunta di spazi di prossimità grazie a questo avviso si è innescato un altro processo le organizzazioni che magari facevano fatica a dialogare io vi porto l'esperienza mia che siamo un piccolo comune ma stiamo imparando veramente a collaborare e a condividere soprattutto con gli altri comuni dei Cinque Realisiti grazie anche soprattutto a bandi come questo io ho allacciato diciamo altri rapporti collaborativi di amicizia o anche di semplice scambio di informazioni con associazioni altri enti di volontariato del terzo settore dei comuni limitrovi cioè è bello vedere un sindaco un assessore un'associazione che ti chiamano si confrontano puoi sapere che da quell'altra parte da Arti in Regione Puglia c'è una linea telefonica che rispondono sempre che aiutano per qualunque informazione e oggi questi sono i risultati cinque quattro comuni su cinque che hanno nuovi spazi da poter mettere a disposizione di un territorio che ha davvero bisogno di innescare nuovi processi rigenerativi l'ultima bella esperienza ce l'avevamo con i laboratori urbani Bollenti Spiriti ad Orta Nova e poi nel paese limitrofo Cerignola quindi noi guardavamo a questi due comuni con grande interesse ed oggi a distanza di anni possiamo diciamo con orgoglio rivendicare che c'è un nuovo processo di partecipazione che sta veramente partendo dal basso e di questo vi ringrazio e sono sicuro che poi dopo il vario avvio di ciascuna proposta progettuale spero vivamente e sicuramente accadrà che si creerà una sorta di collaborazione e condivisione interna tra tutti i soggetti vincitori grazie grazie Vincenzo si è anticipato una cosa su cui stiamo iniziando a lavorare diciamo la costruzione anche di una rete sostanzialmente di luoghi comuni che si stanno riattivando mettendo anche insieme esperienze simili per certi versi non so diversi teatri che sono stati riattivati piuttosto che esperienze vicine da un punto di vista geografico e se non ci sono no c'è un intervento di una richiesta di intervento dell'architetto Tattoli prego sì buongiorno a tutti io sono uno dei tecnici incaricati dall'Anci di appunto supportare i comuni nella presentazione delle domande e quindi per inserirle poi nella piattaforma e devo dire che mi ha fatto piacere l'intervento di Vincenzo Signoriello perché molte volte arrivano le comunicazioni da Anci che non trovano quella magari quella risposta immediata nei comuni mentre più forte è il confronto con comuni che magari hanno avuto esperienza e quindi questo rafforza poi la volontà da parte magari di altre amministrazioni poi di voler partecipare il noi siamo a disposizione insomma delle amministrazioni io e il mio collega proprio per perché tutti i quesiti i dubbi che possano emergere durante la fase di predisposizione degli atti per appunto la candidatura possano essere in qualche modo sciolti e insomma quindi accelerare il procedimento quindi diamo la nostra insomma la mia disponibilità magari posso anche inserire i miei dati che sicuramente avete ricevuto dalle varie comunicazioni parlo sicuramente ai comuni alle amministrazioni da parte dell'Anci Puglia e in particolar modo uno degli elementi che l'Anci ha sviluppato è proprio il contratto di comodato d'uso che poi dopo sarà sottoscritto dalle varie amministrazioni ovviamente è uno schema di contratto che poi va calato nella realtà di ciascun di ciascun esito nella fase finale della coprogettazione e che però in molti casi è utile strumento sin dall'inizio per poter capire poi quale debba essere il punto di arrivo per le amministrazioni stesse e quindi ribadisco appunto l'azione che sta facendo l'Anci per cercare di diffondere la conoscenza dei luoghi comuni ma anche appunto questo supporto che ribadisco è a disposizione delle amministrazioni e dei funzionari tecnici io mi occupo ovviamente degli aspetti propriamente tecnici dell'invio delle procedure caratteristiche che devono avere poi questi spazi per poter essere accolti nella candidatura e magari a fine incontro possiamo inserire io e i miei colleghi dei riferimenti in modo tale che possiate contattarci liberamente buona giornata grazie mille Esther ci sta aiutando parecchio sui territori per soprattutto affiancare appunto le amministrazioni comunali interessate a partecipare all'iniziativa non ci sono altre domande quindi se siete d'accordo io chiuderei qui ringraziando tutti coloro che hanno partecipato l'assessore dell'Inoci il presidente Albino la dottoressa Berlingerio il sindaco Gianluca Burchio i colleghi di Arti e di Regione Puglia e di Anci che ci hanno accompagnato per la preparazione e l'organizzazione di questo incontro e a tutti voi che ci avete seguito in diretta Facebook e avete partecipato qui su Zoom grazie ancora e ovviamente siamo a totale disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento informazione sui canali di luoghi comuni grazie ancora e buona giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti